Ciao, come va? Ciao, come stai? Bene, ok? Ciao, ho fatto il tuono? Sì, sì. Ciao. Allora, Luisa, la tua vita, tu sei portegna? Sì. Sei di Buenos Aires. Eh, assomiglia in un certo modo a una telenovela? Credo che la vita di tutti si sembra abbastanza a una telenovela, perché tutti sentono le stesse le stesse le stesse. Con certezza. Che pensa che la vita di tutti possa assomigliare a una telenovela. E la tua in particolare? La mia también tiene un poco de telenovela, perché vivo un amor inmenso con un marido que tengo desde hace muchos años. Ah, anche la sua, perché ha un marido da molti anni ed è felicemente sposata. A proposito di matrimonio, Jorge Martinez. Noi ci conosciamo da qualche anno dall'Argentina. Due? Un poco más. Un poco más. Parla italiano, tu lo puoi... Un po'. Un po', da un po', sì. Senti, io ti ho fatto gli auguri per il tuo matrimonio tre volte. Una, un po' dopo un'altra, e adesso è la terza. Eh, perché la terza è la volta buona. Ah, speriamo. Io finisco qui di farti gli auguri, eh. Sei il viaggio di nozze in Italia e vorrei, ecco, rassicurare, e la vedo tutta sorridente e quindi felice, Alejandra, tanti auguri veramente di grande felicità. La moglie di Jorge Martinez si sono sposati pochi giorni fa in Argentina. No, grazie. Grazie a lei. Grazie a lei. E spero veramente... a la actrice che doblò mi voce, Rossella Itzo. Vuole ringraziare la sua doppiatrice, Rossella Itzo? Sì, perché un actor sin su voce è la mitad di un actor. E noi non potremmo potremmo arrivare a tutti voi come lo facciamo, se Rossella e tutti i suoi compagni non ci avessero interpretato tan profondamente tutto quello che noi vogliamo expressare. Grazie a tutti i doppiatori che realmente sono molto importanti. Grazie a Luisa Cugliochi e a Jorge Martinez. Felicità. Sì, certo. Prego. Grazie. Grazie a tutti i doppiatori che realmente sono molto importanti.